Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione, quello di Instant Gaming, dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi davvero scontatissimi, compresi i bundle di Fortnite con i V-Bucks. Primo link in descrizione, Instant Gaming! Ehi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi parliamo della patch 7.3, la vediamo proprio nel dettaglio, come vedete alle mie spalle la granata congelante, la novità principale di questa patch, già proposta ieri nelle news, abbiamo ragazzi una descrizione ufficiale, la granata congelante respinge i giocatori e li fa scivolare sul terreno, alleati, nemici e veicoli colpiti dalla granata scivolano sulle ruote o con i piedi congelati per 7 secondi, troveremo ragazzi degli stack da 3. potremmo portarne al massimo 6, saranno di rarità comune e la troveremo ovviamente nel bottino a terra, nel forziere e nei distributori automatici. Modifiche anche per il falò confortevole, hanno aggiornato la grafica del falò, hanno aggiornato gli effetti visivi per indicare più chiaramente quando è in uso o quando è spento. Modifiche anche ragazzi per quello che riguarda i bug ovviamente, finalmente i palloncini non entreranno più in collisione con i veicoli, in questo modo hanno risolto il problema nel quale i veicoli potevano essere danneggiati usando i palloni a bordo degli stessi, quindi un'altra modifica interessantissima. Hanno fatto anche in questo update un supporto per i controller per i dispositivi mobile. In questo momento è arrivato il supporto per i controller bluetooth per i dispositivi mobili, quindi potremmo giocare sul nostro cellulare con un controller bluetooth. lanciati a conquista la vittoria in un modo tutto nuovo. Davvero ragazzi comodissimo giocare nei server per chi usa iOS o Android con il controller. Modificata anche ragazzi il numero di mele e di funghi che ci sono in giro per la mappa, hanno aggiunto delle feed con messaggi specifici quando i giocatori vengono eliminati o atterrati dai veicoli, hanno anche fatto una correzione nelle bombe ballerine che non avevano gli effetti sui giocatori che indossavano il pupazzo di neve e quindi in questo momento è tutto a posto. Hanno fatto dei fix al pupazzo di neve subdolo, l'ultima carica si staccava subito dopo l'applicazione se un altro pupazzo di neve era presente in un altro slot dell'inventario, quindi dovessimo averne due stack, adesso con l'ultima carica non è più un problema. Hanno aumentato da 20 a 30 la quantità di materiali ottenuta prendendo il forziere a terra quindi i chest e hanno aumentato da 40 a 60 il numero di materiali che riceviamo invece nei drop. modifiche anche per la mira assistita che adesso punta i nemici sui veicoli invece che alla base del veicolo quindi ancora più esagerata la mira assistita, si può passare rapidamente dalle trappole e dalle armi con i gamepad in modo molto più velocemente senza che per sbaglio faccia sparare dei colpi a caso. hanno risolto un problema dove gli effetti grafici dell'accelerazione si vedevano utilizzando un veicolo vicino a una zipline questi sono fix bug di gioco. I giocatori ora potranno virare con l'X4 quindi con l'aeroplano anche dopo aver colpito il terreno o le strutture, quindi un'altra modifica. Hanno aggiunto il nuovo evento la coppa pop-up architetto, giocatore singolo, coppie e squadra con le impostazioni classiche degli altri tornei in questa modalità le strutture costruite dai giocatori possono essere modificate da qualsiasi altro giocatore a prescindere dalla squadra, quindi una cosa nuova in arrivo che vogliono testare per vedere come va. Rimosso il missile guidato dai parco giochi e rimossa anche la consegna di rifornimenti area accuminata non c'è più l'arena nel parco giochi. Modificate finalmente hanno migliorato le prestazioni per i cali di frame rate che si verificavano con i grandi cambiamenti di direzione della visuale e hanno fatto delle modifiche anche nell'interfaccia utente. Vengono mostrate nell'interfaccia le eliminazioni totali del gruppo quando la tua squadra vince. Molto bella come cosa. Sono tornati i colori rosso, blu, viola e giallo in modo che si distinguono i giocatori nelle mat, ad esempio nella battaglia con il cibo e hanno risolto ragazzi una valanga di bug. Attenzione perché nella grafica festeggia il Super Bowl con le nuove uniformi dei Los Angeles Rams e dei New England Patriots hanno aggiunto questi due set nel costume del quarto down, quindi le skin del Super Bowl. Tutti i giocatori che hanno acquistato il set riceveranno queste varianti automaticamente. Risolti un sacco di bug anche nella modalità replay arrivano anche le possibilità di diventare anonimo in modo che nella modalità trasmissione quando stiamo streamando si possa evitare lo stream sniping e per il mobile hanno aggiunto il 60 Hz su alcuni modelli Android, Samsung Galaxy Note 9, l'Honor View 20 e la Waitmate 20X. Per quello che riguarda la modalità creativa, hanno messo il pianoforte in modo che si possano creare le proprie canzoni personalizzate, hanno aggiunto la nuova base artica nei prefabbricati e un sacco di fix dei bug più comuni che c'erano in questa modalità creativa. Beh ragazzi direi che con la patch 7.30 ci si avvicina davvero verso la fine della season numero 7. Io vi ricordo non perdete la live questo pomeriggio, noi ci vediamo presto, ciao!